rcf art 712a diffusore attivo da 700 watt rms di casa rcf disponibile nel nostro negozio online rcf art 712a è un sistema di diffusione a due vie in basso reflex abbinato ad un'amplificazione in classe d in grado di garantire una potenza di 700 watt rms la pressione massima disponibile è di 129 decibel continui con un range di risposte in frequenza da 50 hertz a 20 kilohertz il woofer da 12 pollici ad alte prestazioni dispone di una bobina da due pollici e mezzo mentre il twitter a cupola in millar è da un pollice con bobina da un pollice 7 il tutto racchiuso in un robusto cabinet in polipropilene composito per un peso complessivo di 18 kg la disposizione dei trasduttori è di tipo classico con il twitter nella parte alta dotato di caricamento a tromba e il woofer nella parte bassa mentre il sistema bus reflex prevede 4 fori agli angoli del diffusore il sistema di connessioni è alquanto minimale e prevede un unico ingresso xlr e una doppia uscita sia xlr che jack oltre alla sola regolazione di volume è prevista la possibilità di enfatizzazione delle frequenze basse e lo switch per la commutazione del segnale di ingresso dal line a microfonico il trasporto e l'installazione sono agevolati da comode maniglie laterali così come la presenza del foro per il posizionamento sustativo e la piedinatura in gomma pesante inoltre la geometria consente il posizionamento anche in orizzontale come monitor passiamo ora ad un breve test d'ascolto grazie a tutti 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 Grazie a tutti